un saluto da dottor palmas ti faccio un video per il quale molti mi vorrebbero uccidere e lo faccio semplicemente per evitare di farti buttare anche 30 40 mila euro il costo che potrebbe venire a costare rifare i denti fissi senza osso nel tuo paese con un equip che dopo si rivela potrebbe rivelare un equip senza esperienza per poter fare questo tipo di intervento ti svelo quelli che sono i dietro le quinte il retroscena di questo tipo di chirurgia che se vogliamo è anche vecchia è una chirurgia che veniva fatta già 40 anni fa con tutta un'altra serie di tecniche che ti descriverò che l'hanno in realtà mandata in disuso parliamo degli impianti uxta osse oppure impianti sottoperiostali hanno diversi nomi si tratta sempre di quegli impianti fatti su misura che permettono di rimettere i denti fissi a chi non c'ha più osso quello che ti voglio raccontare è il perché devi stare molto attento ma vicino un po il microfono spero che mi senti bene quando devi fare questo tipo di chirurgia sono tantissimi in europa i pazienti che devono rimettere i denti fissi ma non possono più metterli hanno la dentiera mobile in tasca neanche più con la colla sta sopra sono da anni magari portatori di protesi mobili l'osso è completamente riassorbito arrivato alle ossa basali si chiamano così le ossa che stanno sopra all'osso cristale che è l'osso che invece manteneva le radici che vanno dal dentista al dentista gli dice che non si può più fare nulla questo genere di pazienti si mette a cercare allora su internet delle soluzioni per rimettere i denti fissi fa il giro delle sete chiese va da una parte dall'altra tanti chirurghi talvolta anche maxillofaciali nessuno pare avere avere la soluzione a un certo punto questi pazienti che hanno perduto completamente l'osso vanno per per caso magari a finire su un video youtube oppure su una pagina internet che gli spiega che invece è possibile ancora rimettere i denti fissi anche se non hai più osso parliamo di pazienti che sono in stadio terminale quindi non parliamo di tutti quei pazienti che possono ancora rimettere i denti fissi con gli impianti convenzionali le classiche viti che tutti conosciamo e di cui si sente tanta pubblicità parliamo di un tipo di chirurgia ultra specialistica che viene eseguita da equip maxillofaciali prima differenza non viene eseguita da dentisti viene eseguita in quanto è un distretto quello dove si va a operare maxillofaciali fai attenzione perché ci sono alcune nazioni dove anche il dentista può eseguire questi interventi se fa del training e se fa qualche corso che lo insegna gli insegna a mettere questi tipi di impianti ma in realtà chi dovrebbe mettere questi impianti non tanto chi riesce a fare l'intervento ma chi è in grado di gestire dopo le complicazioni essendo questi degli impianti posizionati nel massiccio facciale oppure sulle ossa basali e che stanno in un distretto non proprio di pertinenza odontoiatrica ma andiamo sconfiniamo verso la maxillo facciale i pazienti c'è il rischio che si ritrovino a fare l'intervento con dei chirurghi che non sono all'altezza oppure non all'altezza di fare l'intervento ma gestire le complicazioni faccio un esempio se un paziente che ha grosse complicazioni dopo impianti zigomatici oppure infezioni seri mascellari dopo che gli hanno sfondato le ossa per mettere impianti zigomatici oppure dopo che ha posizionato impianti sotto periostali o iukstaosi dove che va va al dipartimento maxillo facciale perché non riva dal dentista chiaramente non sto parlando dell'italia ok parlo a livello largo europeo parlo anche della moldavia della romania della bulgaria di qualsiasi nazione tieni conto che in america addirittura neanche si possono fare gli impianti sotto periostali perché ancora non sono stati regolamentati l'europa è molto avanti da questo punto di vista ci sono tipi di interventi che vengono eseguiti dai maxillo facciali come per esempio questi tipi di interventi nella mia equip io ho una decina di chirurghi maxillo facciali che fanno questo tipo di interventi a ognuno il suo il problema nasce proprio da questo ovvero che chi fa l'impianto dentale chi fa l'atto chirurgico poi non è necessariamente un protesista non è un dentista non è la figura che poi deve realizzare i denti il panorama europeo è molto semplificato non sono tanti i chirurghi che eseguono questi interventi e anche se li trovi se questi sono in una azione molto costosa l'intervento viene a costare tantissimo non ti rimangono soldi poi per fare bene i denti i denti definitivi le protesi e in passato si facevano delle protesi molto semplificate che venivano incollate sopra questo tipo di impianti dentali le classiche protesi cementate il problema è che questo tipo di interventi gli impianti sotto periostei non vanno accoppiati con le protesi incollate ma ci vanno o delle protesi avvitate oppure delle barre avvitate sopra questo tipo di impianti con la protesi che si incastra proprio per evitare che ci siano poi delle infiammazioni ricorrenti sulle gengive che stanno sopra questo impianto molto delicato molti iniziano a fare questi casi li operano poi dopo si ritrovano a cementare incollare delle protesi malfate sopra questi impianti ne vedo tante di lastre io se vai a cercare chi è dottor palmas non c'è bisogno che te lo dica io vai su google vedrai che io vedo migliaia di pazienti ogni anno che devono fare riabilitazioni estreme vuoi non vuoi vedo anche tutte le radiografie di molti dentisti d'europa anche alcuni che hanno fatto questi tipi di interventi sono pochi a livello mondiale i chirurghi che si fanno affiancare poi da una squadra di odontotecnici e di protesisti odontoiatri protesisti che sanno poi fare i denti sopra questi impianti in passato ripeto questi impianti si facevano già 40 anni fa ma si facevano con una tecnica non moderna si faceva si apriva la gengiva si prendeva l'impronta dell'osso e poi si disegnava a mano l'impianto si faceva con delle tecniche di metallurgia obsoleta l'impianto neanche in titanio che veniva posizionato sotto la gengiva e quasi mai questo era avvitato quindi si iniziava a muovere creava delle ferite sulla gengiva sull'osso e veniva via non durava oltretutto aveva un baricentro non favorevole erano impianti non abbastanza estesi quindi si muovevano quando il paziente masticava e venivano perduti e andarono in disuso successivamente circa dieci anni fa sono state inventate delle nuove tecnologie le cosiddette stampanti di metallo più le tac tridimensionali fatte col computer che hanno permesso di vedere l'osso del paziente prima ancora di operarlo e questo è stato un grande vantaggio perché è stato possibile disegnare questi tipi di impianti prima ancora di fare l'intervento quindi non aprendo la gengiva l'osso non andava in asfissia non cambiava la forma poi il giorno dell'intervento quando riaprivi un'altra volta la gengiva l'osso non aveva più la stessa forma oggi invece si apre una sola volta la gengiva per inserire l'impianto che è in molti video miei dove ti faccio vedere i design fatti col computer di questi impianti dentali prima di essere eseguito l'intervento e questo ha portato di nuovo a rispolverare questo tipo di tecnica che un tempo era andata in disuso proprio il fatto di poterli produrre con una nuova tecnologia e poter ridurre drasticamente quelli che sarebbero stati poi gli successi di questo tipo di impianto oltre questo negli anni la tecnica è stata modificata sono stati eliminate tutta una serie di errori anche procedurali di tecnica che c'erano in passato come il fatto di mettere gli impianti non avvitati con l'osso oggi invece vengono potuti progettare i fori dove poter far passare delle viti che vanno ad ancorare questi impianti al massiccio facciale oppure alle basi della mandibola atrofica dove non c'è più osso e questo è stato un enorme vantaggio perché permette di dare già quella che viene chiamata la ritenzione primaria ovvero la immobilità dell'impianto subito dopo l'intervento che permette di stabilizzare quindi l'impianto con il periosteo e le strutture poi corticali dell'osso e fa ricrescere anche in alcuni casi l'osso sopra l'impianto la stabilità viene mantenuta da queste viti che sono delle viti da osteosintesi che vengono usate da decine di anni nei dipartimenti maxillo facciali a dire il vero gli impianti sotto periostali non si sono mai finiti di utilizzare quando un paziente va al pronto soccorso fa un incidente stradale si spacca la mandibola sono delle ferule degli impianti sotto periostali quelli che vengono utilizzati le ossa vengono unite tra di loro con delle placche di titanio unite con le viti avrete mai sentito di persone che gli hanno messo le placche in titanio quelli sono i famosi impianti sotto periostei la novità qual è stata che a queste placche si sarebbe potuto creare poi un manicotto che uscisse dalla gengiva sul quale avvitare i denti te la sto proprio semplificando per farti capire cosa è questo tipo di chirurgia e perché devi fare attenzione a chi non ne fa di interventi il punto è questo quando primo trucco segreto che io do sempre ai miei pazienti o futuri pazienti è se vai a fare il giro delle sette chiese e quindi vai da tanti altri dentisti o chirurghi che ti propongono questo tipo di intervento e cerchi di capire a chi affidarti chiedili di poter aprire l'attac tridimensionale il computer e vedere un centinaio di questi casi se ce li ha nel computer se non ne ha neanche uno da mostrarti stai alla larga significa che qualcuno che vuole fare esperienza su di te tu sarai la cavia è un intervento questo altamente tecnica sensibile operatore sensibile significa che chi lo fa questo intervento deve già averne fatti tanti ma perché ha già visto i problemi come vanno risolti anche durante l'operazione averne fatto due o tre non è sufficiente l'impianto può essere anche perfetto confezionato bene sterile condizionato adatto all'inserimento perfetto collosso ma se non ne hai fatti tanti c'è il rischio che chirurgo non riesce a gestire le complicazioni quindi primo segreto se vai da un chirurgo che ti sta proponendo questa tecnica chiedili aprimi la radiografia per cortesia fammi vedere quanti interventi hai fatto e questo è il primo punto in realtà ce n'è un altro che è ancora più importante anche se ne ha fatti tanti non è detto che abbia finito lui quei lavori non è detto che abbia i denti paziente mentre ti sta parlando un conto è fare l'intervento e posizionare l'impianto dentale un altro conto è montare poi i denti definitivi sopra quell'impianto dentale come ti ho detto il 95 per cento degli impianti sotto periostali che circolano in europa hanno i denti incollati quindi perché questo perché costa molto realizzare queste protesi e se al paziente gli togli tutti i soldi con la chirurgia perché è una chirurgia costosa ripeto può costare dai 30 ai 40 mila euro in america parliamo anche di 100 mila dollari si tratta poi di non avere il paziente più i soldi per poter fare i denti il paziente vuole i denti la cosa più importante non è mettere l'impianto sotto periostale la cosa più importante è arrivare a tenere nella tasca del paziente i soldi per poter fare poi dei denti come dio comanda e questi denti devono essere avvitati oppure ti ho detto con la barra in titanio sul quale si incastra la protesi i denti vengono fatti col digitale vengono fatti nelle nostre strutture col protocollo bot con sistema bocca bionica che permette già di vedere i denti ancora prima di finire il lavoro ancora prima di farlo e non tutti gli odontotecnici che realizzano le protesi per questi impianti usano protocolli d'avanguardia ma pro molto spesso vedo in europa delle protesi in resina in plastica incollate cementate su questi impianti mi viene da mettere le mani nei capelli perché hanno fatto una ruberia al paziente gli hanno preso 30 mila euro gli hanno fatto un intervento molto costoso dal punto di vista chirurgico anche rischioso e poi non hanno terminato il lavoro come si deve hanno messo dei denti incollati cementati sopra questi impianti ok cerca su youtube un video che ho fatto che spiega proprio la truffa dei denti incollati cementati perché ti si aprirà un mondo i denti di qualità devono avere una barra in titanio che li unisce che si avvita sopra gli impianti dentali che si siano impianti convenzionali oppure impianti sottoperiostali fai attenzione perché se non c'è questa seconda condizione il consiglio che ti do è scappa non farti operare dai chip che mettono impianti sottoperiostali uno non avvitati quindi quelli che si chiamano che vengono pubblicizzati con la tecnica press fit ovvero vanno incastro sull'osso quelli creano delle fierite sull'osso l'impianto si mobilita dopo un po lo perdi oltre questo chiedi di vedere quanti interventi hanno fatto come vai nella sala radiografico aprite un centinaio di casi già risolti ci sono diversi video dove io ti faccio vedere i design di questi impianti dentali documentati se uno non ha niente da documentare perché non ne ha fatto evita di essere la cavia seconda cosa oltre a chiedere di farti mostrare quanti interventi effettivamente sono stati eseguiti cerca chi ti fa anche i denti avvitati magari in zirconio ok magari in composito con la barra in titanio ma devono essere avvitati perché questo tipo di protesi è una protesi ortopedica dove tende a incastrarsi il cibo c'è bisogno di più manutenzione devi poterla svitare e riavitare in caso di emergenza e soprattutto eviti di avere poi tutta questa roba che si attacca sulla gengiva col cemento che non riesci più a levare ti farà infettare le gengive è molto semplice quindi come non cadere vittima degli apprendisti chirurghi magari dentisti che vogliono fare interventi maxillofaciali in europa o nell'est europa che non hanno le competenze per fare questo tipo di intervento ma è ancora più semplice cadere vittima anche con gli impianti convenzionali di equip che non mettono il dovuto focus sulla protesi su quello che poi realmente conta perché quelli che masticheranno poi gli anni prossimi vent'anni trent'anni quarant'anni sono i denti e se quelli non sono fatti col digitale con il computer non è possibile sostituirli con un clic devi ripagare da capo la protesi quindi ti sembrerà di aver risparmiato magari aver trovato anche un buon prezzo per la chirurgia non ti rimarranno poi soldi per la protesi e fai attenzione perché questo è un punto chiave spero che questo video ti sia piaciuto faccio tanti video che cercano di svelare quelli che sono i dietro le quinte quelle cose che non ti spiega nessuno perché non gli conviene è inutile che un chirurgo che vuole fare i primi impianti basali sotto periostei ti dica queste cose perché non avrebbe le tac 3d da mostrarti dei casi risolti non avrebbe le fotografie dei casi risolti non avrebbe i pazienti reali da con cui farti parlare e quindi non te ne parla di queste cose ti farà vedere il disegno bellino dell'impianto sotto periostale ti farà vedere la brochure ti farà vedere il sito web della fabbrica di impianti ma non ti può far vedere le tac 3d dei pazienti perché non ne ha avuto quindi se ti capita di entrare in contatto con realtà di questo tipo stai alla larga perché non sono i professionisti del degli impianti basali juxta ossei o sotto periostali un saluto da dottor palmas